E ora state per conoscere un bambino magico dotato di una forza straordinaria. Ecco voi, si gol! E ora state per conoscere un bambino magico dotato di una forza straordinaria. E ora state per conoscere un bambino magico dotato di una forza straordinaria. E ora state per conoscere un bambino magico dotato di una forza straordinaria. Grazie.